Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questa riflessione di oggi parleremo di un argomento che mi è abbastanza caro perché ho chiacchierato ultimamente con un amico e lo voglio condividere con voi. L'argomento di cui voglio parlare è il costo del cambiamento, perché sì, cambiare vita, cambiare città, cambiare diciamo ruolo che si è svolto finora ha un costo, ma ne parliamo tra poco, subito dopo la sigla. Forza! Sicuramente è capitato un momento della propria vita in cui si era indecisi su cosa fare. Di base molto spesso noi tendiamo a prendere delle scelte e queste scelte sono solamente due tipi, scelte reversibili e scelte irreversibili. Le scelte irreversibili sono quelle scelte che tendono a essere definitive, cioè sono quel tipo di scelte dalle quali non si può ritornare indietro. Non sono tantissime, ma alcune appunto sono esattamente così. Nel momento in cui ad esempio decidiamo di avere un figlio, quella è una scelta abbastanza irreversibile, come ce ne sono tante altre, così come ci sono eventi della vita che non dipendono da noi e sono altrettanto irreversibili. Altri tipi di scelte invece riguardano le scelte reversibili. Ad esempio se noi compriamo un'auto possiamo sempre decidere di rivenderla e di comprarne un'altra. Certo ha un costo questo cambiamento, ma è una scelta reversibile. La nostra vita ha un mare di scelte che apparentemente sembrano irreversibili, ma in realtà sono reversibili, si può diciamo cambiare. Ma per quanto una scelta possa sembracci irreversibile, e in realtà lo è, ha un costo, ha un prezzo. Questo prezzo può essere di diversa natura, può essere un prezzo economico, può essere un prezzo da pagare in altro tipo di moneta, che non è appunto il denaro, ma può essere ad esempio il tempo, può essere ad esempio un'amicizia, un rapporto. Ci sono tanti modi in cui si possono pagare i cambiamenti, ma una cosa ve la posso assicurare. Ogni cambiamento ha un costo che può essere minimo o massimo. Decidere se cambiare oppure no, questo dipende da noi ed esclusivamente da noi. Proprio come superare i propri limiti e la propria comportozona. Ma quando noi andiamo a decidere di effettuare un cambiamento, bisogna sempre tenere conto se questo cambiamento ha un prezzo troppo alto o un prezzo adeguato al cambiamento, perché alcuni cambiamenti ad esempio non hanno un prezzo adeguato. Ma entriamo un pochino più nello specifico. Parliamo ad esempio di lavoro, perché è l'argomento con cui sto parlando, amico. Quando noi eseguiamo una carriera lavorativa e iniziamo a intraprendere una strada, in genere ci costruiamo una specie di gabbia, o quantomeno crediamo che sia una gabbia. Iniziamo un percorso di studi, che ad esempio è un tipo di università, e iniziamo a dare qualche esame, poi ci sembra impossibile cambiare facoltà, cambiare materia, cambiare disciplina. In realtà non è così a un costo, in questo caso cambiare università ha un costo sia economico, perché avete pagato delle tasse e quei soldi li andate a perdere, sia in tempo di tempo, in termini di tempo, perché abbiamo investito del tempo, casomai dando uno, due, tre, quattro esami, ed è un prezzo che dobbiamo valutare se vale la pena oppure no. Alcune volte assolutamente sì, vale la pena questo tipo di cambiamento, perché se stiamo seguendo una carriera universitaria che non ci soddisfa e ci porterà poi a fare un lavoro che faremo male, molto meglio cambiare, sicuramente scegliere qualcosa che ci piace di più ci porterà a dei risultati decisamente migliori, non credete? Quindi sì, può sembrare uno sforzo enorme, può sembrare qualcosa di veramente duro e difficile, ma è una cosa che vale la pena fare. Il discorso diverso è invece per cambiare il lavoro, immaginiamo che avete intrapreso una carriera lavorativa e avete raggiunto, casomai, un determinato livello lavorativo, siete un dirigente o un manager, una cosa del genere, avete una famiglia, avete dei figli? Allora il costo del cambiamento sembra troppo alto, perché? Perché cambiare vuol dire mettersi in gioco, vuol dire ad esempio rinunciare ai propri benefits, vuol dire ripartire da zero, vuol dire mettere in crisi la famiglia, vuol dire mettere in crisi il matrimonio, vuol dire diciamo lasciare perplessi i propri figli, perché casomai in un momento di crisi sarà difficile effettuare questo tipo di cambiamento, ma è possibile, ha un costo, ovviamente dovreste avere una persona a fianco molto comprensiva, dovreste avere qualcuno che è in grado di sostenervi o dovreste essere in grado di accumulare una quantità tale di denaro per sostenervi nella fase di transizione e comunque il tipo di cambiamento potrebbe essere di due tipi, potrebbe essere un cambiamento radicale e potrebbe essere un cambiamento parziale. Un cambiamento parziale è quando decidete di rimanere nello stesso ambito lavorativo, cambiate ad esempio solo l'azienda e quindi andate a migliorare la vostra condizione, oppure potrebbe essere un cambiamento nella stessa area di competenza. Ammettiamo ad esempio che siete un professore di, che ne so, di lettere, decidete poi di lavorare in una biblioteca, aprire una biblioteca o comunque occuparvi di una cosa che riguarda sempre comunque il vostro ambito di studio, il vostro ambito di competenza, in quel caso sarà un cambiamento parziale. Mettiamo invece che siete sempre stato un dipendente e a un certo punto decidete di aprire un'azienda, beh quello è un cambiamento radicale, ve lo posso garantire, perché cambia completamente la forma mentis, dovete essere una persona completamente diversa, a meno che non avete fatto un bel periodo di apprendistato con qualcuno che già gestiva un'azienda, quello sarà uno dei cambiamenti che più vi costerà al mondo. Pensiamo ad esempio in un cambiamento come può essere quello da impiegato a content creator, in quel caso il costo è in tempo, perché avrete speso del tempo lavorando l'impiegato e avrete dovuto spendere altrettanto per imparare ad usare ad esempio un'attrezzatura per creare contenuti, avrete dovuto studiare come si creano contenuti, quindi speso valanghe di ore su YouTube o pagando qualcuno che ha fatto uno dei corsi, ce ne sono tanti per imparare a creare contenuti e avrete alla fine, diciamo, ottenuto il vostro cambiamento e non è detto che riuscite ad ottenerlo a un prezzo, questo prezzo è in termini economici di attrezzatura, in termini di tempo per imparare il mestiere e non sempre questo cambiamento ne vale la pena, questo dipende onestamente da voi. Al che vi starete domandando io e il mio amico di cosa stiamo parlando? Beh stiamo parlando proprio di questo, stiamo parlando di cambiamenti. Per fortuna nella sua condizione lui non ha una famiglia, diciamo, che dipende da lui, infatti la moglie lavora, i figli non ce ne sono, quindi il cambiamento è fattibile. Ma io ho chiesto un consiglio, ma io ho chiesto se vale la pena cambiare oppure no. Il mio consiglio è stato sì, assolutamente sì, perché se nella condizione in cui vivi, soprattutto dal punto di vista lavorativo, sei infelice e siccome noi passiamo più della metà della nostra vita in un ambito lavorativo nel lavorare, io credo assolutamente che voi dobbiamo scegliere fare un lavoro che vi soddisfi e che vi piaccia, e circondarmi di persone che vi permettono di lavorare al meglio. Se uno di questi fattori non funziona, non va e crea problemi, bisogna prendere dei provvedimenti, perché altrimenti si viverà una vita infelice. Certo, questi cambiamenti hanno un costo che a volte può essere un costo veramente, ma veramente enorme, ma vi posso assicurare che se alla fine riuscite a ottenere il risultato che vi siete prefissati, ne sarà balsa sicuramente la pena. Ragazzi, spero che questo video vi abbia fatto un po' di compagnia. Spero che il costo per il vostro cambiamento non sia troppo elevato. Se questo video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale per vedere altri video. Lasciatemi un commento per dirmi la vostra opinione, e se avete una storia da raccontare, una storia di cambiamento, una storia di rivincita, una storia di successo, sarò ben felice non solo di leggerla, ma se vorrete anche di parlarne insieme, e chissà, casomai farci un video. Detto questo, con me se vi va, ci vedremo nel prossimo video. See you next! Ciao!